Il cadavere mummificato scoperto al cardeto potrebbe rivelare qualche informazione preziosa al fine di svelarne l'identità. È quello che ci si augura, infatti, dopo l'autopsia, lunedì, presso l'Istituto di Medicina Legale dell'Ospedale di Torrette, il corpo senza vita e senza nome giaceva su un materasso buttato sul pavimento dell'ex sede della Polizia Scientifica nell'area del Bastione San Paolo all'interno del parco più grande della città dorica. Sulla vicenda sta indagando la squadra mobile, ma si pensa che questa persona, probabilmente di origine africana, abbia accusato un malore. Accanto al corpo non c'erano documenti o altri effetti personali che possano dare agli investigatori elementi decisivi per identificare il cadavere, sul cui giallo il PM Rosario Lionello ha aperto un fascicolo senza ipotesi di reato. Da un primo riscontro medico-legale il decesso risalirebbe ad almeno lo scorso inverno. Certo è che quei bivacchi e il carneto, così come al passetto, sono cosa nota purtroppo. Lo spiega anche Roberto Grelloni, presidente Ampis ed educatore del centro di urlo Solidalea, da anni impegnato nel sociale e per i diritti del prossimo. Il fatto che comunque non ci sia, ci sia grandi difficoltà di intercettare questi problemi o a dargli una risposta è perché sono sempre in aumento, le povertà aumentano e le risposte invece complessivamente diminuiscono. Soprattutto la risposta umana. Ci sono poche persone che ogni tanto si accorgono dell'altro, mentre invece l'altro diventa per noi parte importante. Io posso dire un po' la mia esperienza qui dalla Polisportiva. Io ho conosciuto una persona che dormiva in macchina ormai da 4-5 mesi. L'ho ospitato qui all'interno dell'associazione, mi ha dato una mano anche a pulire, a fare delle cose, ma di fatto poi questa esperienza che lui ha fatto gli ha salvato la vita. Abbiamo fatto in modo che prendesse la residenza qui ad Ancona e oggi so che sta facendo una vita decente. Allora io credo che forse le risposte potrebbero essere anche molto semplici. Io vi chiederei quanti di quelle persone che sono dormono per la strada, o che vedo, possono avere delle competenze specifiche, per esempio se per cucinare, e trovare una struttura che molte volte non è fattiscente, sistemarla e fare in modo che ci sia un'autogestione, chiaramente con un minimo di controllo in questo senso, e intanto si dà una risposta. Questo non vuol dire perché noi sappiamo che la casa del povero, altre situazioni, stanno facendo un grosso lavoro, ma non è sufficiente in queste povertà che stanno crescendo, ma soprattutto credo vada fatto un lavoro di umanizzazione.